Buon pomeriggio a tutti, benvenuti in Alma Social TV, il training broadcaster di Alma Laboris Business School. Mi presento, sono Marco Stile, faccio parte dell'area comunicazione di Alma Laboris. Sono davvero lieto di essere qui con voi per introdurvi verso l'evento formativo gratuito acquistate per assistere. Oggi parleremo di un argomento che è inserito nella nostra Alma Social TV, nella nostra sezione New Win Master, quella con degli eventi dedicati all'approfondimento di quelle che sono le principali tematiche dei percorsi di alta formazione di Alma Laboris Business School e anche di tutto quello che concerne l'approfondimento circa i master di alta formazione e i corsi di alta specializzazione. Parleremo di un argomento centrale nel quality assurance del GMP dell'industria farmaceutica e delle norme di buona distribuzione. Anche nella distribuzione e nella logistica l'azienda farmaceutica manufattoriera deve osservare le best practices. La distribuzione medicinali d'altronde è un'attività importante nella catena della filiera farmaceutica. In questo workshop illustreremo una panoramica normativa per garantire il controllo della catena di distribuzione mantenendo gli standard qualitativi e l'integrità dei prodotti. Lo faremo con la dottoressa Giovanna Iannuzzi e la dottoressa Francesca Di Pierro che ho il piacere di introdurvi. La dottoressa Iannuzzi è ingegnere chimico con esperienza nella gestione di progetti T, contabilità, delivery, management, consulente senior, SAP, ERP, nonché esperta dei processi aziendali nelle industrie manufattoriere con una vasta conoscenza dei processi di produzione nell'ambito farmaceutico e chimico, mentre invece la dottoressa Francesca Di Pierro è Application Services Manager, Delivery Manager, CSV Consultant, laureata in informatica e comunicazione digitale, ha conseguito tra le altre cose anche un master HCM in gestione del capitale umano mediante la tecnologia SAP. La nostra finalità, la finalità di questo evento formativo gratuito è sicuramente quella di condividere delle nozioni circa quanto concerne questa fattispecie particolare appunto del Quality Assurance, ma anche quella di condividere la portata e il taglio delle nostre attività formative. A tal riguardo vi rimandiamo alla pagina dedicata al corso di alta specializzazione in Quality Assurance e in GMP dell'industria farmaceutica che è presente appunto. Al primo link che vedete nella grafica che stiamo proiettando in questo momento, inoltre abbiamo scelto di allegare anche il link ai nostri corsi di alta specializzazione, un'offerta piena di percorsi immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, agili e erogabili in modalità online. Per coloro i quali fossero poi interessati dunque ad un confronto più approfondito con Alma Lavoris Business School, il nostro consiglio è sempre quello di visitare queste due pagine che incolleremo nella chat di questa piattaforma anche perché non voglio più rubare del tempo alle nostre relatrici a cui cedo volentieri la parola. Buon pomeriggio, bentrovati tutti, grazie della partecipazione. Prima di passare la parola alla collega Francesca Di Pierro che illustrerà una panoramica sulle norme di buona distribuzione molto utili e soprattutto da rispettare preferibilmente nelle logistiche delle industrie farmaceutiche in ambito produttivo. Vi volevo salutare e invitare eventualmente a fare delle domande o comunque a intervenire se necessitate di fugare alcuni dubbi o approfondire determinati argomenti o di altri chiarimenti anche via chat. Eventualmente vi attiveremo poi la possibilità di parlare. Vi ringrazio. Passo la parola alla collega Francesca Di Pierro. Buonasera a tutti. Ciao Giovanna. Come vi ha anticipato il collega e la collega, sono laureata in informatica e comunicazione digitale, ho conseguito anche un master in marketing e gestione dei processi aziendali farmaceutici proprio con Alma Laboris School. Sono project delivery manager e validecio per impronte SRL, membro ISPE e formatore qualificato. Parto subito con la condivisione del materiale che abbiamo preparato per illustrarvi i principi guida in ambito della distribuzione e i campi di applicazione. Condivido lo schermo. Grazie. Ditemi se riuscite a vedere. Adesso sì. Perfetto. Allora partiamo dalla definizione delle good distribution practice secondo l'articolo 84. Scusami, scavediamo soltanto la condivisione, devi autorizzare e cliccare sulla… ecco qua. Sì, adesso la vediamo, grazie. Ok. Allora, le good distribution practice sono basate sull'articolo 84-85 ter paragrafo 3 della direttiva 2001-83 CE. Hanno come campo di applicazione la distribuzione all'ingrosso di medicinali destinati al commercio. Non vediamo ancora niente. Allora… 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 Aspetta che forse ho sbagliato, schermata di condivisione, schermo intero. Ok, adesso? Ok, grazie. Perfetto. Secondo che mi posiziono sulla schermata che voglio condividervi. Ok. Allora, hanno come campo di applicazione, dicevo appunto, la distribuzione all'ingrosso dei medicinali destinati al commercio. Il titolo di riferimento che fa, diciamo, si riferisce al decreto legislativo 219 del 2006, attua appunto la direttiva di qui sopra, la 2001-83 CE e la direttiva 2003-94 CE e ha un impatto molto significativo su sostanze attive, gli eccipienti, il broccheraggio di medicinali e medicinali falsificati. Prima si parlava di medicinali, il decreto 219-2006 parla di sostanze attive ed eccipienti e definisce la distribuzione all'ingrosso e il broccheraggio di medicinali. La distribuzione all'ingrosso di medicinali appunto lo definisce come distribuzione, qualsiasi attività consistente nel procurarsi, detenere, fornire o esportare medicinali salvo la fornitura di medicinali al pubblico. Queste attività sono svolte con i produttori e i loro depositari, con gli importatori, con gli altri distributori all'ingrossi e nei confronti dei farmacisti o degli altri soggetti autorizzati a fornire medicinali al pubblico. E per quanto riguarda la definizione di broccheraggio di medicinali, qualsiasi attività in relazione alla vendita o all'acquisto di prodotti farmaceutici, ad eccezione della distribuzione all'ingrosso, che non include la detenzione e che consiste nella negoziazione da posizione indipendente per conto di un'altra persona fisico-giuridica. Il decreto estende l'ambito di applicazione dalla sola distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano anche alle sostanze attive. Per rilasciare un certificato GDP è necessaria un'ispezione. L'articolo 103 è dedicato proprio alla procedura di autorizzazione e ispezioni. Dopo ogni ispezione l'autorità competente redige un verbale sul rispetto da parte dell'interessato dei principi e degli orientamenti GDP. Il contenuto del verbale viene comunicato all'interessato che può presentare delle osservazioni entro i 90 giorni e viene rilasciata la certificazione. Copia della certificazione è trasmessa poi al Ministero della Salute che provvede ad inserire le pertinenti informazioni nella banca dati dell'Unione Europea. Tra gli obblighi del titolare dell'autorizzazione vi è quello di accertare che i medicinali ricevuti non siano falsificati verificando i bollini riportati sull'imballaggio esterno. A questo fa riferimento proprio l'articolo 104. Per applicare l'articolo 104 si dovrebbe utilizzare un sistema di serializzazione. Tra gli obblighi vi è anche quello di istituire un sistema di qualità e di informare immediatamente le autorità di medicinali identificati come falsificati o sospetti. I distributori di sostanze attive devono quindi registrare la propria attività all'autorità competente. Distribuiscono o trasmettono annualmente all'autorità competente un elenco delle modifiche intervenute in relazione alle informazioni fornite nel modulo stesso di registrazione. Qualsiasi modifica che possa incidere sulla qualità o sulla sicurezza delle sostanze attive distribuite deve essere immediatamente notificata. L'autorità competente trasmette copia del modulo di registrazione al Ministero della Salute che provvede poi a inserire queste informazioni, abbiamo detto come prima, nella Banca dati dell'Unione Europea. Vediamo quali sono gli ulteriori riferimenti normativi. Abbiamo le linee guida del 5 novembre 2013 sulle buone pratiche di distribuzione dei medicinali per uso umano, linee guida del marzo 2015 relativa alle buone prassi di distribuzione di sostanze attive per la fabbricazione di medicinali per uso umano. Qual è la legislazione del settore farmaceutico in ambito di distribuzione? Diciamo che oggi la rete distributiva dei medicinali è sempre più complessa e convolge numerosi operatori. La Commissione Europea ha pubblicato ad esempio le linee guide europee in materia di buone pratiche di distribuzione dei medicinali per uso umano, appunto le GDP. Nel marzo del 2013 e successivamente nel novembre dello stesso anno è stata pubblicata una revisione delle linee guida per tenere conto dei progressi nelle pratiche di stoccaggio e distribuzione appropriate di medicinali in seno all'Unione Europea, nonché delle nuove disposizioni introdotte dalla direttiva 2011-62 UE. Scopo imprescindibile delle linee guida è l'ottimizzazione delle attività di trasporto, deposito, distribuzione e il miglioramento delle attività di richiamo di medicinali difettosi e falsificati. Queste linee guida stabiliscono strumenti adeguati per assistere i distributori all'ingrosso nell'esercizio delle loro attività e quindi impedire l'emissione nella catena di fornitura legale di medicinali falsificati. Il rispetto delle linee guida garantisce il controllo della catena di distribuzione e di conseguenza la qualità e l'integrità dei prodotti farmaceutici. L'addendum ICH-GCP-I6-R2 non è altro che un aggiornamento che si è reso necessario nel 2016 per adeguare i sistemi e gli standard di gestione della documentazione di una sperimentazione clinica in modalità elettronica. L'Agenzia europea per i medicinali, l'EMA, fornisce risposte alle domande frequenti sulle buone pratiche di fabbricazione legge MP e sulle buone pratiche di distribuzione legge MP. La guida fornita dal gruppo di lavoro sotto forma di domande e risposte fornisce quindi un'ulteriore interpretazione delle linee guida GMP dell'Unione Europea e delle linee guida GDP pubblicate appunto dalla Commissione Europea. L'EMA può rimuovere singole domande e risposte quando la Commissione Europea aggiorna le linee guida. Attualmente in Italia sono state recepite le GDP europee del 1994. Decreto ministeriale del 6 luglio 1999 è relativo appunto all'approvazione delle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano. Nonostante l'articolo 110 del decreto 219-2006 richieda il recepimento tempestivo delle linee guida, le GDP europee 2013 non sono ancora state recepite del tutto. Vediamo un pochettino quali sono le nuove sfide della logistica farmaceutica. Possiamo dire subito che la logistica attualmente distributiva farmaceutica è composta da pochi attori. Attualmente parliamo di circa 300 aziende autorizzate che dispongono di molti magazzini. L'anello debole della filiera è sicuramente il trasporto. Gli aspetti con maggiore criticità sono le condizioni di stoccaggio, batch recolla, gestione dei resi, caratteristiche dei prodotti da trasportare, trasporti su gomma, garanzia e tracciabilità dei lotti, gestione delle scorte, numero elevato di punti vendita da raggiungere, parliamo di circa 22.000, 220.000 e alla fine dell'intera filiera c'è sempre il cliente e il paziente. Il flusso più lungo che passa attraverso i grossisti convolge circa l'80% del volume movimentato, solo il 20% dei volumi di traffico va direttamente da depositare ai clienti. I principali attori a cui viene affidato il compito della distribuzione intermedia del farmaco, in Italia, sono i depositari grossisti. Questi soggetti devono essere ovviamente autorizzati ai sensi del decreto legislativo che abbiamo discusso prima, 219-2006. I depositari detengono e distribuiscono i medicinali grossisti alle strutture di dispensazioni territoriali per conto dei titolari AIC, quindi autorizzata l'emissione in commercio del proprio farmaco e dei loro rappresentanti. Pertanto i depositari non hanno la proprietà dei medicinali, i depositari non distribuiscono tutti i farmaci, ma solo quelli previsti nei contratti di deposito e di distribuzione sottoscritti con i titolari AIC. I grossisti sono i veri distributori intermedi che hanno la proprietà dei medicinali che distribuiscono, acquistano i medicinali dei titolari AIC e li rivendono principalmente alle farmacie territoriali e a loro quindi è affidato il compito della distribuzione secondaria, ovvero la distribuzione alle farmacie pubbliche e private. In Italia ad esempio c'è una differenzazione tra la distribuzione primaria e secondaria, a seconda dell'articolo di legge a cui fanno riferimento. La distribuzione primaria è in mano al depositario, quella secondaria è quella che passa dal grossista. Il supply chain manager è un attore molto importante all'interno della catena di distribuzione che deve prendere decisioni quotidianamente a livello strategico, quindi lungo termine, volto a progettare e definire una supply chain coerente con la strategia aziendale, tattico, medio termine, volto a massimizzare l'efficienza della supply chain e operativo di breve termine, quindi focalizzato sul quotidiano. I punti chiave su cui deve lavorare il supply chain manager sono flessibilità, affidabilità, lead time e livelli di magazzino. Il supply chain manager è convolto nella supply chain planning e nella supply chain execution. La prima adotta algoritmi di analisi per prevedere l'andamento della domanda e dei flussi di beni di materiale nella catena del valore, in modo da ottimizzare i processi aziendali. Coordina le risorse al fine appunto di ottimizzare la distribuzione di beni e servizi. Il supply chain execution utilizza invece le informazioni generate al punto 1 per guidare la produzione, la logistica, i movimenti di materie prime. In tutto il processo delle operazioni della supply chain vengono convolte persone, infrastrutture, tecnologie e sistemi per la gestione delle performance. Per questo motivo il supply chain manager deve collaborare attivamente con le varie funzioni, la logistica, la gestione degli ordini, la gestione dell'inventario, l'IT e così via. Le principali fasi operative che un supply chain manager deve gestire tramite un approccio di risk analysis sono la selezione e la qualifica dei fornitori, i vari flussi di approvvigionamento e ricezione dei prodotti, la verifica delle condizioni ambientali, la presa in carico e la registrazione dei prodotti, lo stoccaggio e la conservazione adeguata degli stessi, la gestione delle scorte, la tracciabilità, la documentazione relativa, il trasporto e il monitoraggio relativo, la permanenza dei materiali fuori dei magazzini, gestione dei resi ed eventuali recolla. La mappatura delle operazioni della supply chain deve essere vista nell'ottica della gestione del rischio. In questa slide ho sintetizzato i vari step. Lo step 1 consta proprio della pianificazione dei rischi, quindi abbiamo l'emissione di un piano di risk management. Successivamente si passa allo step 2 che consta nella identificazione dei rischi potenziali del processo e quindi questo comporta alla registrazione dei rischi stessi in un apposito registro. Si passa poi all'analisi qualitativa della probabilità di occorrenza e degli effetti dei rischi, quindi viene stilata una lista di priorità dei rischi, analisi dell'impatto sul processo a causa del possibile verificarsi degli eventi negativi e anche qui emissione di una lista degli impatti, risposta ai rischi per pianificare le strategie di mitigazione e quindi la redazione di un piano di risposta e mitigazione dei rischi e da ultimo abbiamo il keep performance indicator, l'audit e la checklist. Fino al 1996 mancava uno standard all'interno della supply chain. Il supply chain council ha creato allora il paradigma SCORE. Il modello SCORE è uno strumento di standardizzazione del processo di implementazione dell'intera supply chain. L'uso di questo modello consente a tutti gli attori della filiera di comunicare tra loro usando dei termini comuni, descrizioni standardizzate, indicatori univoci che aiutano a comprendere l'intera supply chain e ad adottare le medesime soluzioni operative. Il modello SCORE fa riferimento ad un perimetro ben definito di entità aziendali, idealmente sono 5. Le aziende considerate sono la propria, un fornitore di un cliente di primo livello ed al massimo un fornitore di un cliente di secondo livello. In questa immagine infatti viene illustrato lo schema del modello SCORE per le entità aziendali che abbiamo a essere definiti idealmente 5. Il modello SCORE lavora su tre livelli di dettaglio e propone un'analisi della supply chain per approfondimenti successivi. Il livello 1 definisce l'oggetto e il contenuto della supply chain operation reference model, si definiscono i livelli di servizio e KPI. Il livello 2 costa nella strategia aziendale che si concretizza con la configurazione dell'intera supply chain. Il livello 3 costituisce l'abilità dell'azienda di competere nel proprio mercato. Per ogni processo di primo livello il modello SCORE propone un secondo o un terzo livello di maggior dettaglio. In realtà per essere propriamente operativi occorre giungere ad un ulteriore livello di specificità dei processi, livelli 4 ed eventualmente 5, la cui configurazione ovviamente è lasciata alla libertà di ciascuna azienda. L'autorità garante della concorrenza del mercato ha fatto sì che il Parlamento introducesse il nuovo sistema europeo di tracking, di tracciatura, tracciabilità del farmaco, senza attendere il termine ultimo che ricordiamo essere per l'Italia, essere fissato al febbraio 2025. L'articolo 3 del decreto ministeriale del luglio 2004 prevede l'assegnazione di un codice identificativo univoco a tutti i siti logistici autorizzati e alla produzione di specialità medicinali e alla distribuzione all'ingrosso di medicinali destinati ad uso umano. Con il regolamento delegato UE 2016-161, la Commissione europea ha disciplinato le caratteristiche e le specifiche tecniche dell'identificativo univoco, la modalità di verifica delle caratteristiche di sicurezza, nonché la costituzione e la gestione del sistema degli archivi degli identificativi univoci attraverso la costituzione dell'EMVO. La scelta strategica aziendale tra mantenere interna la funzione logistica o affidarla a terzi specializzati nel settore dipende da numerosi fattori. I nuovi modelli organizzativi privilegiano la scelta di un unico gestore in grado di coordinare e integrare le diverse fasi del processo logistico. L'obiettivo sicuramente è quello di ottimizzare i tempi e i costi nella movimentazione delle merci, ma anche migliorare l'efficienza del servizio reso al cliente. L'outsourcing di servizi logistici è sicuramente in costante crescita, in costante sviluppo. Il partner di servizi logistici riceve prodotti direttamente dalla produzione, di magazzina, riceve le istruzioni di spedizione, prepara gli ordini, vi spedisce, effettua il trasporto e la consegna e provvede a tutta la documentazione e agli adempimenti contabili. Può effettuare poi tutta una serie di operazioni, lavorazioni e accessori quali riconfezionamenti, confezionamenti secondari, fatturazione, contrassegno, gestione delle scorte, recolta al mercato, gestione dei resi. Quali sono i punti di debolezza e punti di forza? Allora, sicuramente difficoltà nell'organizzazione, personalizzazione del servizio, contratto che risulta essere molto complesso, un impegno a lungo termine, necessità di dettagliate specifiche delle prestazioni di servizio e il controllo delle prestazioni dei costi. Punti di forza. Un'azienda specializzata può garantire meglio sia il servizio che la qualità, ma anche la flessibilità rispetto a variazione di volume e personalizzazione delle condizioni di consegna. Ogni attività prevista dal processo di selezione dei partner e dei fornitori deve essere correttamente gestita e questo lo si fa procedurizzando e convalidando il processo, qualificando i partner e i fornitori e misurando costantemente le performance. Ogni attività quindi deve essere definita, concordata e controllata allo scopo di garantire quelli che ho sintetizzato come punti di forza, qualità del servizio, sicurezza dei prodotti, efficacia del processo e integrità dei prodotti stessi. La crescita del numero di importazioni di medicinali e l'introduzione delle nuove regole di mercato, la crescita del territorio europeo, le differenze climatiche tra i vari stati, ma soprattutto l'ingresso nel mercato europeo di medicinali falsificati e legali, hanno spinto l'operatore ad eseguire un rigoroso controllo sulle varie fasi di trasporto, ma di questo ne parleremo dopo. nelle slide successive. La capacità di, possiamo dire, mantenere la sicurezza e la qualità dei prodotti sicuramente riveste un ruolo di importanza centrale della logistica per la farmaceutica. Infatti anche la minima alterazione della qualità del prodotto può avere degli effetti sulla salute dei pazienti, perché il target finale, ricordiamo, è sempre la salute del paziente. Le attività di trasporto dei medicinali risultano essere un fattore critico, in quanto da esse dipende la capacità di mantenere costante durante le fasi di post produzione, deposito e distribuzione intermedia e finale, la qualità garantita durante le fasi di produzione. Diciamo che gli episodi criminosi che si erano fermati poco dopo la crisi, quella esplosa tra 2012 e 2014, è stata superata. La pausa è durata pochi anni, giusto il tempo per i criminali però di riorganizzarsi e studiare nuovi meccanismi per superare i controlli. Da pochi mesi le bande dei criminali hanno ripreso gli assalti ai tir, ai magazzini e le razzine le farmacie ospedaliere private in Italia. Il 9 febbraio 2019 è entrata in vigore in tutti i paesi membri dell'Unione Europea la direttiva anticontraffazione 2011-62. Sebbene l'Italia, così come il Belgio e la Grecia, abbia avuto la facoltà di suffruire, come abbiamo detto prima una deroga fino a febbraio 2025, per recepire la norma, di fatto il regolamento sancisce già l'adozione di requisiti di serializzazione anche per chi produce medicinali nel nostro paese e l'esporta in quelli dell'Unione Europea. Nelle slide che seguiranno ho riportato esempi di applicazioni pratiche di principi di GDP con riferimento all'esperienza ispettiva e li vediamo assieme. Il primo capitolo riguarda la gestione della qualità. Cosa dice? Deve esistere un sistema di qualità che determini responsabilità, processi e misure di gestione dei rischi in relazione alle loro attività. Quindi prevede la gestione delle attività esternalizzate. Il sistema di qualità va esteso al controllo e la verifica di eventuali attività esternalizzate relativa all'acquisto, detenzione, forniture, esportazione di medicinali. Questi processi devono includere la gestione dei rischi attinenti alle qualità e comprendere valutazione dell'adeguatezza della competenza del contraente per svolgere le attività e il controllo delle autorizzazioni se del caso. Definizione delle responsabilità dei processi di comunicazione per le attività connesse. Monitoraggio e verifica delle prestazioni del contraente e la periodica individuazione e delle eventuali miglioramenti necessari. Capitolo 2 riguarda il personale. La corretta distribuzione dei medicinali dipende dalle persone, quindi occorre disporre di un personale competente il numero sufficiente per svolgere tutti i compiti previsti e il distributore all'ingrosso deve disegnare una persona in qualità di garante. Locale di attrezzatura e diciamo qui viene speso molto perché viene detto che i distributori all'ingrosso devono disporre di locali, impianti, apparecchiature idonee sufficienti allo scopo di garantire una buona conservazione e distribuzione dei medicinali. I locali devono essere progettati o adattati al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di stoccaggio necessarie, quindi devono essere sicuri, strutturalmente sani e di capacità sufficiente per consentire lo stoccaggio e manipolazione sicura dei medicinali. I medicinali devono essere conservati in zone separate, chiaramente contrassegnate e accessibili, unicamente al personale autorizzato. Viene detto anche molto in merito, sempre per quanto riguarda il capitolo 3 delle GMP locali e attrezzature, il controllo della temperatura dell'ambiente. Quindi devono esserci adeguati apparecchiature e procedure per controllare l'ambiente in cui sono conservati i medicinali. I fattori ambientali da prendere in considerazione includono temperatura, luce, umidità e pulizia dei locali. Una mappatura iniziale della temperatura in condizioni rappresentative deve essere effettuata nell'area di stoccaggio prima dell'uso. I dispositivi di controllo della temperatura, ubicati in base ai risultati della mappatura, in modo da garantire che gli strumenti di monitoraggio siano posizionati nelle aree in cui registrano delle oscillazioni maggiori. La mappatura deve essere ripetuta in base ai risultati di una valutazione dei rischi, oppure tutte le volte in cui vengono apportate modifiche significative alla struttura o ai dispositivi di controllo della temperatura. Apparecchiature. Tutte le apparecchiature che incidono sullo stoccaggio e distribuzione dei medicinali devono essere progettate, posizionate e mantenute ad un livello appropriato alla destinazione d'uso. Abbiamo un programma di manutenzione che deve essere in vigore per le apparecchiature essenziali per la funzionalità dell'impianto, apparecchiature utilizzate per controllare o sorvegliare l'ambiente e la taratura delle apparecchiature deve essere riconducibile ad una norma aziendale o internazionale di misura. Sistemi informatizzati rientrano sempre nella definizione delle locali attrezzature del capitolo 3 delle GDP. Quindi, prima di mettere in servizio un sistema informatizzato, occorre, mediante opportuna convalide studi di verifiche, dimostrare che è in grado di conseguire risultati o spiegati con la dovuta precisione, coerenza e riproducibilità. Una descrizione dettagliata, scritta del sistema, deve essere disponibile e regolarmente aggiornata. Solo le persone autorizzate, ovviamente, possono introdurre o modificare i dati nel sistema informatizzato. E adesso passiamo al capitolo 9, che è quello più importante perché abbiamo detto che le attività di trasporto dei medicinali risultano essere un fattore veramente critico in quanto, diciamo, da esse dipende la capacità di mantenere costante la qualità garantita durante le varie fasi di produzione. Quindi, cosa viene detto in merito al capitolo 9 sul trasporto? Indipendentemente dal mezzo di trasporto, deve essere possibile dimostrare che i medicinali non sono stati esposti a condizioni che potrebbero compromettere la loro qualità ed integrità. La pianificazione del trasporto va applicato, per la pianificazione del trasporto, va applicato sempre l'approccio basato sull'analisi del rischio. Per il trasporto vengono dette, insomma, diverse cose. Le condizioni di stoccaggio richieste per i medicinali devono essere costanti durante il trasporto, nei limiti che sono stati definiti dal fabbricante o sull'imballaggio esterno. Nel caso di deviazioni, quale oscillazioni termiche e danni al prodotto durante il trasporto, occorre informare nel distributore e destinatario dei medicinali interessati. Quindi una procedura deve essere applicata al fine di garantire il tracking e quindi di indagare e trattare le oscillazioni termiche. Spetta al distributore all'ingrosso garantire che i veicoli e le apparecchiature utilizzate per distribuire, immagazzinare o manipolare i medicinali siano adatti al loro uso e adeguatamente attrezzati per evitare l'esposizione dei prodotti a condizioni che potrebbero incidere sulla qualità e integrità di imballaggio. Applicate procedure scritte per il funzionamento e la manutenzione di tutti i veicoli, le apparecchiature convolte e la valutazione del rischio delle rotte di consegne deve essere impiegata per determinare se sono necessari dei controlli aggiuntivi relativi alla temperatura. Le consegne devono essere effettuate all'indirizzo indicato nella bolla di consegna e affidate alla custodia del destinatario o depositate nei propri locali e per le consegne di emergenza al di fuori del normale orario di lavoro occorre disegnare le persone incaricate e mettere a disposizione procedure scritte. Per quanto riguarda i contenitori, imballaggio ed etichettatura, viene detto che i medicinali devono essere trasportati in contenitori che non abbiano effetti negativi sulla qualità e integrità dei prodotti e che quindi venga esclusa la possibilità di influenze esterne inclusa la contaminazione. La selezione di un contenitore dell'imballaggio deve tenere conto dei requisiti di stoccaggio e trasporto dei medicinali, dello spazio necessario per il quantitativo di medicinali, delle temperature estreme previste, del tempo massimo stimato per il trasporto, compreso magazzinaggio di transito indogana, dello status di qualifica dell'imballaggio e della convalida dei contenitori del trasporto. Vengono definiti prodotti che richiedono condizioni particolari, se sono utilizzati i veicoli a temperatura controllata, gli apparecatori di monitoraggio della temperatura devono essere sottoposte a manutenzione e tarature regolari. Su richieste ai clienti vanno fornite informazioni necessarie per dimostrare che tutti i prodotti sono mantenuti nelle condizioni termiche previste per lo stoccaggio. Se vengono utilizzati i dispositivi refrigeranti, i contenitori termisolanti devono essere collocati in modo che il prodotto non venga in contatto diretto con il cool pack. E occorre predisporre ovviamente un sistema per controllare l'utilizzo di dispositivi refrigeranti e garantire che non siano utilizzati per errori dispositivi non completamente raffreddati. In base all'esperienza quindi ispettiva, sulla base di queste applicazioni pratiche dei principi di good distribution practice, cosa è emerso? Quindi dall'analisi dei risultati ottenuti di prodotti utilizzati prevalentemente per la sperimentazione clinica, sono emerse diverse carenze a livello di trasporto, frigoriferi e locali, sistemi di registrazione in continuo della temperatura e che sono state mappate in questi slide. Quindi, cosa è emerso? Sicuramente carenza nella documentazione di trasporto dei prodotti dallo sponsor alla farmacia ospedaliera, mancato tracciamento dell'ora e della fine del trasporto, non presenza della lista dei lotti di prodotti consegnati, carenza nelle procedure di trasferimento dei prodotti dalla farmacia ospedaliera al sito sperimentale. Questo purtroppo è una criticità che dipende anche dalla distanza. Assenza di procedure, trasporto di prodotti a temperatura controllata, senza tracciabilità o appositi contenitori, mancanze di procedure di gestione del data logger all'arrivo della farmacia, trasporto all'interno della struttura ospedaliera fuori controllo e non documentato. Per quanto riguarda le carenze che sono emerse relative ai frigoriferi, sono stati rinvenuti i frigoriferi senza un'etichetta identificativa, mancanza di documentazione e di correlata documentazione tra frigorifero e data logger, frigoriferi senza il controllo continuo della temperatura, collocazione delle sonde di rilevamento temperatura in maniera non coerente, mancanza di gruppo di continuità collegato a frigoriferi e condizionatori, mancanza di piano di azione in caso di blackout e funzionamento del gruppo di continuità, mancanza di allarmi, allarmi per fuori range di temperatura solo acustici, produzione di prodotti nei frigoriferi non documentata, frigoriferi senza logo del contenuto della movimentazione e registrazione manuali delle temperature con procedure sbagliate. In merito invece ai risultati ottenuti nell'esperienza ispettiva per la sperimentazione clinica relative ai locali, che cosa è emerso? Emersa la mancanza di registrazione di temperature nei locali, ovvero conservato il farmaco da mantenere a temperatura ambiente, conservazione dei prodotti nella stanza di data manager insieme alla documentazione dello studio, accesso ai prodotti non controllati, non controllato soprattutto nei reparti, conservazione dei prodotti in una maniera non segregata dal farmaco utilizzato per la normale pratica clinica. In merito ai sistemi di registrazione in continuo della temperatura, sono state rilevate delle registrazioni in continuo della temperatura, ma mancanza di revisione dei tracciati, sistema di registrazione delle temperature non validato, impossibilità di accesso al sistema di registrazione delle temperature, personale del sito sperimentale non a conoscenza di suddetto sistema, quindi impossibile risalire al settaggio dei livelli di allarme, all'elenco degli allarmi scattati in un determinato periodo di tempo, l'output dei tracciati di temperatura in formato Excel archiviati in modalità modificabili in cartelle senza controllo, carenza nella documentazione relativa alla rilevazione, gestione ed indagini ulteriori sulle cause e fuori range di temperatura. Tutti questi findings quindi, emersi dalle analisi di risultati ottenuti su prodotti utilizzati per la sperimentazione clinica, sicuramente ci fanno aggiungere alle seguenti considerazioni conclusive, cioè che il trasporto dal produttore GMP al sito sperimentale rimane sicuramente un'area buia, grigia e al momento trascurata rispetto ad altri settori. Difficoltà nel reperimento di tutte le informazioni relative alla tracciabilità del prodotto e controllo del trasporto, quindi parliamo di qualifica del fornitore, qualifica delle apparecchiature dei mezzi e così via, e importanti possibilità di miglioramento nel controllo dei processi e nella relativa documentazione. Possiamo dire che però attraverso il quality management è possibile provvedere alla sanatore di molti problemi, quali adestramento del personale aziendale convolto, qualifica e monitoraggio del fornitore, quality risk management e la verifica successiva. Il personale dovrebbe sicuramente ricevere una formazione iniziale continua e pertinente per il proprio ruolo sulla base di procedure scritte e in conformità ad un programma scritto di formazione. In analogia alle GMP è molto importante che il personale venga sensibilizzato alla registrazione delle operazioni contemporaneamente alla loro esecuzione, quindi principalmente il personale convolto è quello della logistica del magazzino che deve utilizzare solo fornitori qualificati come dall'elenco ufficiale, verificare la completezza della documentazione dalle gare ai prodotti da spedire e quindi parliamo del documento di trasporto, del certificato di conformità, le schede di sicurezza con l'indicazione della temperatura di trasporto, verificare l'idegnità dei mezzi di trasporto utilizzati in funzione delle condizioni di temperatura richieste, evitare di far viaggiare diversi tipi di categorie merceologiche, ad esempio gli alimenti, utilizzando mezzi dedicati o segregazione sullo stesso mezzo mediante barriere fisica. Un altro punto importante è la qualifica del fornitore, dunque è necessario ottenere informazioni dal fornitore sulla sua storia di conformità tramite il questionario di qualità, un questionario quindi ottenere ed analizzare campioni di materia prima o materiale per determinare se le caratteristiche chimiche, chimico-fisiche corrispondono a quanto è stato dichiarato dal fornitore e quindi confermare le conformità e l'adeguatezza all'utilizzo per lo scopo previsto, eseguire un audit in loco presso il sito di produzione e infine stipulare dei quality technical agreement che includono anche le condizioni stesse di trasporto. Se le materie prime soddisfano i requisiti prestabiliti, devono essere eseguite delle prove di produzione del prodotto finito ed infine testata la stabilità dei lotti. Il fornitore quindi può essere inserito nell'elenco dei fornitori approvati. Si procede quindi al monitoraggio periodico, alla qualifica dei fornitori eseguito sulla raccolta dei dati ottenuti dagli analisi delle successive forniture di materia prima e con audit di sorveglianza e mantenimento. Il monitoraggio del fornitore si espeta tramite indicatori di performance come ad esempio la verifica e registrazione delle deviazioni, verifica e registrazione dei reclami, verifica dei tempi di consegna rispetto agli standard e verifica della completezza dell'attività documentale di trasporto prodotta, quindi tracciati di temperature e tracciati GPS se previsto dalla SOP di riferimento. Da ultimo Quality Management costa anche di una componente che si chiama Quality Risk Management, è un requisito del GDP, il Quality Risk Management e ha come base una buona progettazione e gestione del sistema qualità. Inoltre fornisce un approccio che garantisce la sicurezza del sistema sempre a favore del paziente, l'efficacia nell'identificazione dei rischi e la loro mitigazione. Uno dei problemi più comuni è che i piccoli e medi distributori si trovano ad affrontare e riguarda proprio l'applicazione pratica dei principi del Quality Risk Management. Il primo step consta nella valutazione dei rischi, cioè analizzare il processo aiuta a identificarne le parti associate a rischi maggiori. Per applicare questa valutazione al trasporto farmaceutico possiamo ad esempio analizzare ciascuna rotta oppure raggruppare le rotte o mezzi di trasporto simili. Ad esempio, un primo gruppo potrebbe includere i prodotti a temperatura ambiente trasportati per via aerea in Europa, un altro gruppo potrebbe includere prodotti con catena del freddo trasportati sempre per via aerea in Europa, un gruppo ulteriore i prodotti trasportati su strada con mezzi propri e un altro ancora i prodotti trasportati su strada avvalendosi di un corriere. Ciascuno di questi gruppi avrà dei profili di rischio comuni a tutte le spedizioni di quel gruppo, ma presenterà anche dei rischi differenti rispetto ad altri gruppi. Si devono poi identificare diversi rischi, ad esempio le escursioni termiche, problemi di sicurezza, i danni durante il transito o consegni in tempi troppo lunghi. Prendiamo come esempio il rischio della temperatura troppo alta. Identificato come rischio potenziale un'escursione troppo alta della temperatura dobbiamo cercare di capire la probabilità che si verifichi, l'impatto e la rilevabilità. La probabilità può dipendere da fattori quali ad esempio la stagione, la geografia del luogo, l'altitudine. La stima iniziale ovviamente si basa sull'esperienza e la conoscenza che ha l'organizzazione stessa, ma man mano che il modello si sviluppa e si raccolgono i dati sulla temperatura, la qualità e l'obiettività della stima, della probabilità migliorano. Il passaggio successivo poi è quello di valutare l'impatto di un'escursione termica sulla spedizione e sull'integrità del prodotto, la qualità finale. L'impatto sulla spedizione può includere ritardi nelle spedizioni successive oppure la possibilità che il cliente rifiuti la spedizione stessa. Per quanto invece riguarda, abbiamo detto, l'impatto sul prodotto, il fornitore o cliente deve valutare l'impatto dell'escursione di temperatura sul singolo prodotto nel carico e confrontarlo con il range di temperature accettabili previste per quel prodotto. Diciamo che rispetto al trasporto dei farmaci le GDP europee richiedono chiaramente che le condizioni di stoccaggio richieste siano mantenute durante il trasporto all'interno dei limiti predefiniti come descritto dal produttore sul packaging, quindi diventa responsabilità del distributore assicurare che i medi di trasporto e le attrezzature utilizzate durante la distribuzione e gestione dei prodotti medicinali siano adatti all'uso e equipaggiati per prevenire l'esposizione dei prodotti a condizioni che potrebbero darneggiarne la quantità o l'integrità. E poi da ultimo la rilevabilità, che è la terza parte di cui si compone il Quality Risk Management. L'aumento della rilevabilità grazie ad allarmi termici aiuta a prevenire l'escursione e garantisce il mantenimento delle condizioni di temperatura richiesta. Nei casi in cui non si monitori la temperatura di una spedizione è necessario una convalida robusta con limiti stringenti superati i quali l'intero carico viene considerato compromesso. La tecnologia al giorno d'oggi ha messo a disposizione metodi facili ed economici per rilevare le temperature ed inviare i dati in tempo reale. È fondamentale però che gli allarmi siano settati almeno ai limiti di temperature accettabili. Il controllo del rischio prevede sicuramente l'accettazione del rischio e la sua riduzione ad un livello accettabile. Se prendiamo ad esempio il trasporto di medicinali su strada, il verificarsi di casi di temperatura troppo alta può essere dovuto alla struttura inadeguata del veicolo. Quindi furgoni sicuri e senza sistema di raffreddamento tenderanno a scaldarsi maggiormente d'estate, mentre furgoni telonati sono maggiormente soggetti agli sbagli di temperature e anche al rischio di furti. quindi le aziende devono fare tutte le valutazioni del caso per scegliere la soluzione più adeguata e nel frattempo mitigare i rischi. Una volta messi in atto tutte le misure necessarie al controllo del rischio, l'azienda può considerare i nuovi rischi e rivalutare i rischi precedenti. La comunicazione del rischio comprende sia la comunicazione interna sia quella esterna dell'organizzazione. Nel nostro esempio sul trasporto, chi seleziona il corriere non dovrà farlo solo sulla base del prezzo, ma deve scegliere, l'abbiamo detto già, da una lista di fornitori approvati sulla base della valutazione del rischio. In questo caso, l'accordo scritto tra fornitore e il contract giver rappresenta la via di comunicazione tra le parti e può avere al suo interno delle misure di mitigazione del rischio, ad esempio requisiti minimi dei veicoli, restrizioni sulla subfornitura e così via. Il quality risk management, quindi un processo dinamico che si adatta alle circostanze interne ed esterne dell'azienda e per questo motivo deve essere rivalutato a cadenza periodica e dopo ogni evento significativo oppure dopo ogni divazione. In sintesi, come da linee direttrice, il sistema di qualità deve prevedere la designazione di un responsabile aziendale che assicuri la qualità, il garante della qualità, l'addestramento del personale convolto, la registrazione di divazioni e reclami, applicazioni di azioni correttive e preventive, registrazione del change e una serie di procedure. qual è l'impatto documentale? Sicuramente viene richiesta la definizione delle responsabilità di tutte le parti coinvolte nel monitoraggio della supply chain, quindi quality agreement e technical agreement che può comprendere, abbiamo detto già prima, condizioni di trasporto, quindi transportation agreement. Cos'altro? Aggiornamento di tutta la documentazione del sito impattata, parliamo del validation master plan, site master file, l'esop, l'annual product review e il product quality review, ad esempio l'aifa e da ultimo abbiamo il trend analysis del fornitore, del trasportatore. Quindi concludiamo dicendo appunto che vi è un comma del decreto legislativo 219-2006 relativo alle sanzioni per la mancata osservazione del GDP. Chiunque viola la disposizione del titolo settimo relativo appunto alla distribuzione all'ingrosso e brocheraggio di medicinali nonché distribuzioni di sostanze attive, soggiace alla sanzione amministrativa da 3.000 Euro a 18.000 Euro senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente applicabili. Quindi il non rispetto delle GDP ha delle conseguenze sul piano amministrativo e sul piano penale. Io vi ringrazio dell'attenzione, se ci sono domande, perfetto. Grazie a tutti e spero di ritrovarvi presto per prossimi interessanti argomenti sul farma. Buonasera da tutti. Grazie a tutti.